buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di pano tv ebbene ancora problemi nella distribuzione dei quotidiani stamattina fino alle 6 e 30 abbiamo aspettato davanti un'edicola ma è uscito solo un giornale il resto del carlino manca ancora il Corriere Adriatico quindi vedremo le notizie sfogliando questo giornale il resto del carlino che abbiamo pronto qui nella nostra spivania e intanto come sempre passiamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo il santo il santo che si festeggia oggi e il santo che si festeggia è San Vigilio visse nel quarto secolo ed è il patrono del Trentino e Alto Adige il territorio dove lui era nato e il territorio dove in modo particolare ha predicato morì martire morì martire quando stava predicando in Val Rendena e che cosa aveva fatto aveva abbattuto la statua del dio Saturno e questo aveva provocato la furia degli agricoltori i quali temevano che questo atto per loro sacrilego avesse influito poi nella resa dei raccolti e quindi infuriati uccisero appunto Vigilio il quale fu proclamato santo e le sue spoglie riposano appunto in queste regioni nelle Trentino e Alto Adige probabilmente poi furono trasferite a Milano però era il periodo di Sant'Ambrogio ecco e questo è l'epoca in cui visse Vigilio comunque un santo ancora oggi molto venerato. Vediamo le previsioni del tempo Ecco in modo particolare sulle Marche ma soprattutto sulla provincia di Pesor Urbino ci sono nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da nord-ovest al pomeriggio invece più moderati da nord il mare è poco mosso le temperature 18 la minima 25 la massima ma un po' più freschino rispetto ai giorni scorsi e vediamo che il sole è sotto alle 5.26 e tramonterà alle 20.54 e adesso sfogliamo i giornali lo facciamo insieme dato che ho avuto poco tempo di dare un'occhiata prima della trasmissione è ovviamente la notizia principe quella che riguarda le indagini che si riferiscono al delitto di via Fanella un delitto atroce un delitto veramente ferrato che ha scoinvolto anche la città soprattutto ha sconvolto coloro che conoscevano questa famiglia i residenti di via Fanella di Fanu 2 il quartiere dove la famiglia Ricci viveva ebbene ormai è chiaro chi è stato a compiere questo delitto è stato il figlio Luca Luca Ricci il figlio crolla dopo 16 ore di interrogatorio cercava ancora soldi dai genitori dopo che i genitori avevano dato in garanzia la loro abitazione perché il figlio intendeva aprire un'attività economica propria un'azienda che riforniva i supermercati cercava 14 mila euro nella casa dei genitori ha confessato ha confessato tra vuoti di memoria e qualche ammissione il figlio dopo che per tutto questo tempo per tutta la giornata di ieri e anche nel pomeriggio dell'altro giorno di lunedì quando nella notte tra domenica e lunedì è avvenuto il massacro ebbene allora ha cominciato a fare le prime ammissioni ora è rinchiuso a Villa Fastigi con l'accusa del duplice omicidio volontario anche sul suo corpo degli escoriazioni che sono state provocate durante la lotta perché veramente i genitori poi si sono difesi la madre è stata strangolata con una cordicella e anche la madre si è difesa purtroppo dalla furia del figlio e poi il figlio ha infierito sul corpo del padre che dormiva era a letto ha preso un martello e insomma l'ho colpito in testa la madre ha lottato prima di essere strangolata il padre invece sarebbe stato massacrato con un martello mentre era nel letto e lo vediamo qui in questa didascalia che appare su questa foto che ritrae il luogo del delitto la casa di via Fanella li ha uccisi il figlio e le ha confessato crollando dopo tutto questo tempo di interrogazioni ora è in carcere a Villa Fastigi con l'accusa di omicidio plurimo volontario la mamma è stata strangolata e questo l'abbiamo già detto e qua abbiamo una dichiarazione è una dichiarazione della ex moglie di Luca lo vediamo qui Luca nella fotografia e qui la ex moglie la ex moglie è Lorenza Mosca Teodonno 43 anni la madre è anche dei bambini di Luca del figlio Diego che ha 17 anni ed è la figlia di 14 ebbene la ex moglie in lacrime dice perché lo hai fatto ma per me non sarai mai un assassino quindi anche Lorenza la moglie appunto di Luca anche se era separata aveva mantenuto un rapporto con l'ex marito i tuoi figli ti vogliono vedere loro ti amano e tu ami loro lo so per noi non sarai mai un assassino fatto sapere all'ex marito parlando tra le lacrime alle telecamere della trasmissione l'estate in diretta dirai uno l'unica a cui si è concessa ieri non potendo ancora far visita all'incarcere all'ex marito i problemi economici della coppia hanno influito sulla determinazione di questo atto e veramente non si riesce a capire che cosa è scattato nella mente dell'assassino per infierire così in maniera violenta nei confronti dei genitori i quali tuttavia avevano ancora aiutato appunto prestando la loro abitazione in garanzia alle attività economiche del figlio e proprio questo fatto aveva determinato che la casa poi non essendo riuscito il figlio a pagare i debiti la casa data in garanzia è andata all'asta e quindi anche i genitori avrebbero dovuto rinunciare al loro appartamento veramente una situazione molto problematica che ha determinato questo fatto che ancora farà parte della cronaca di tanti altri giorni e allora giriamo la pagina passiamo alle altre notizie pubblicate dal resto del Carlino vediamo la pagina di Pesaro l'estate ingolfata, pioggia, mucillaggine, erosione, spiaggia, bagnini rassegnati ebbene il tempo non aiuta questa stagione turistica il mese di maggio è stato altalenante ma il mese di giugno non è stato da meno tra tempo così, tra tempo nuvoloso piovoso diciamo alternato a giornate calde ma molto molto poche perché poi in fin dei conti il tempo perturbato è stato più frequente rispetto a quello soleggiato ebbene poi ci sono i problemi, i problemi dell'acqua con le alghe, con la mucillaggine poi la pioggia e poi l'erosione in spiaggia tanto è vero che proprio nella giornata di ieri il sindaco di Fano Luca Serfilippi ha incontrato i bagnini di Ponte Sasso dove l'erosione si fa sempre più presente sempre più problematica lì occorrono le scogliere, scogliere che sono state promesse da tempo ma ancora non sono state realizzate c'è tutto un progetto di realizzazione in corso e quindi il sindaco Serfilippi si è fatto carico della realizzazione di questo problema che è in atto, che era in atto anche nella giunta precedente e intanto le prenotazioni per luglio e agosto ovviamente ci sono perché sono proprio i mesi di alta stagione ma quello che conta è anche il prima e anche il dopo perché con solo due mesi non si fa economia non si fa reddito per quanto riguarda tutti gli operatori non solo i bagnini ma sono anche gli albergatori sono anche i commercianti e tutti coloro che operano nell'ambito del commercio e del turismo è una stagione balneare tra luce ed ombre quella che da poco ha preso il via nella città di Pesaro ma anche in tutta la costa da un lato si registra un incremento di turisti dovuti agli eventi in modo particolare a Pesaro ci sono gli eventi della capitale della cultura a Fano invece ci sono i grandi eventi perché proprio oggi inizia il Festival Passaggi che per tutta la settimana avrà grandi nomi grandi scrittori, grandi uomini politici di tutti i settori che saranno presenti a Fano e parleranno dei loro libri ci sono anche diversi palcoscenici insomma 50 avvenimenti, 50 incontri che accenderanno i riflettori proprio sulla città della fortuna credo proprio a livello nazionale poi ci saranno tante altre iniziative ci sarà la Fano dei Cesari ci sarà il Festival Jazz ci saranno tante altre occasioni per attrarre Fano attrarre turisti a Fano e far sì che Fano venga proiettato a livello nazionale come immagine vediamo ancora è il Ceringuito, lo zombie sulla riva un titolo un po' emblematico su questa pagina del resto del Carlino ma però che cosa accade? accade che in una zona del litorale pesarese ci sono detriti c'è della ruggine, c'è del legno marcio e qui i bambini possono farsi anche male ebbene emerge la protesta di alcuni bagnanti sull'ex baretto che è situato dietro Pesaro Studi e il sindaco Biancani il sindaco Biancani viene il nome insomma dopo il sindaco Ricci viene questo nome il sindaco Biancani che ancora insomma è nuovo e quindi fa effetto pronunciarlo il sindaco Biancani ha un piano pronti a demolirlo a meno che il baretto a meno che qualche imprenditore non voglia investire lancio l'invito a presentarsi eccolo qua il baretto della discordia bisogna gestirlo, bisogna riqualificarlo altrimenti è un segno di degrado e lo si vede ancora meglio in questa seconda fotografia dove vediamo come queste strutture, queste lamiere non danno certo un bel aspetto e qui vediamo invece un lutto si tratta di Stefano Aguzzi è un nome che ovviamente non ha nulla a che fare con Fano Stefano Aguzzi operaio 44enne trovato morto, venne discorso al parco Miralfiore ebbene sappiamo che questa morte è stata problematica e ha così richiesto ancora più vigilanza in questo angolo di verde della città di Fano un bellissimo angolo di verde ma è un angolo problematico perché frequentato da loschi figuri da spacciatori da persone che certo non sono delle persone pulite sono dei delinquenti morte nel parco, la lettera degli amici quella voglia di superare il limite lo ha reso la persona che amavamo domani a Catabriga si svolgeranno i funerali di Stefano Aguzzi detto Smith era purtroppo tossico dipendente tossico sì ma della vita così gli amici di Stefano Aguzzi trovato morto per presunta overdose ricordano l'amico hanno scritto una lettera Parole cariche di amore che vi invito a leggere perché se sono indirizzate a questa persona che purtroppo è deceduta per questa schiavitù nel mondo della droga ebbene fanno bene anche per se stessi perché poi inducono a riflettere e a pensare a tanti problemi che ci sono appunto attorno a noi Gabice, Gabice la giunta bilanciata due uomini e due donne squadra ricca ecco la priorità ebbene anche qui la neosindaca Marila Girolomoni siamo pronti ha detto a realizzare i progetti sul fronte turistico e commerciale ebbene Gabice è una delle città turistiche più importanti del nostro territorio situata in una posizione ambientale unica ammirevole è appunto il San Bartolo che poi degrada sulla pianura padana che inizia con la Romagna ed esta si incastona dicevo una perla come Gabice in questo litorale ed ora vediamo Fano vediamo Fano e vediamo l'immagine del sindaco Luca Serfilippi e della vice della vice sindaca Loretta Manocchi Loretta Manocchi e il sindaco hanno parlato dell'aeroporto con l'Enac perché una delle priorità una delle promesse che è stata inserita nel programma elettorale della giunta di centrodestra era quella di ripristinare la pista in cemento dell'aeroporto di Fano una pista che avrebbe dato più sicurezza agli agli atori a coloro appunto che conducono gli aerei e che avrebbe così valorizzato quello che è questo bellissimo scalo che è nel centro Italia e che viene utilizzato abbastanza da tutti gli agliatori che percorrono la nostra politica e intendono atterrare per fare rifornimento per prendersi un minuto di sosta e magari per così fare una passeggiata al mare e godere delle bellezze turistiche e culturali della nostra città e questa volontà non è tanto rara rispetto a quanto si creda benissimo allora la pista in cemento una delle iniziative che vuole assumere il centrodestra sappiamo come in passato l'Enac era già pronta a predisporre il finanziamento per realizzare la pista poi ci sono stati dei problemi intorno in seno alla giunta c'erano degli ambientalisti c'erano dei pareri contrari e la cosa è rimasta al palo ora il Lucas e il Filippi intende invece riprenderla e realizzarla al più presto vediamo anche ieri si è svolta una iniziativa al Vittorio Colonna ancora oggi oggetto di frequentazioni abusive ma questa volta non sono stati trovati soltanto dei senza tetto ebbene coloro che erano dentro erano degli extracomunitari erano in possesso anche di droga sono stati trovati quantitativi di droga in possesso di quattro persone che sono state individuate all'interno appunto del Vittorio Colonna ma anche degli strumenti per il confezionamento della droga e qui insomma c'è anche la probabilità che questi spacciassero non solo consumassero droga per conto loro ebbene come inizio di attività della nuova giunta che ha posto nel suo programma come priorità la sicurezza c'è stata questa nuova iniziativa delle forze dell'ordine ieri ci sono presentati al Vittorio Colonna i poliziotti i carabinieri e c'era anche gli agenti della polizia locale ebbene un blitz che ha portato all'arresto di quattro persone extracomunitarie che occupavano abusivamente l'immobile sono persone senza fissa dimora e sono stati trovati dicevo in possesso di sostanze stupefacenti della strumentazione collegata allo spaccio l'operazione è stata attivata su ordinanza della questura è stata sollecitata anche dalle segnalazioni dei residenti che avevano notato un sospetto andi rivieni tra le strutture del Vittorio Colonna mi ricordo che nell'aprile del 2023 una ditta aveva così fatto dei lavori per rendere ancora più sicura aveva tamponato le finestre le porte aveva aggiustato la recinzione però insomma gli extracomunitari e coloro che hanno bisogno di un tetto riescono sempre a trovare un buco per infilarsi e quindi approfittare della situazione di abbandono dello stabile vediamo ora un altro articolo che riguarda il festival passaggi altro che soap e reality la mia vita ribelle parla così l'attrice Beatrice Luzzi che domani sarà a passaggi e venerdì che venerdì scusate sarà a passaggi festival al via oggi per un incontro sulle donne che hanno sfidato la mafia per amore ebbene l'attesa è finita inizia oggi la dodicesima edizione di Passaggi Festival una delle iniziative di carattere culturale più importanti che sono emerse recentemente dalla città di Fano la Kermesse aprirà con i libri a colazione di Buongiorno Passeggi al Lido alle 9 e 30 per poi proseguire nel pomeriggio con i laboratori per i bambini dalle 16 nei bagni Torrette e poi anche alla Memo l'apertura delle rassegne inizia appunto con questa iniziativa e poi vediamo quello che accade quello che accade nel pomeriggio e nella serata anzi vediamo nella serata nel chiostro delle Benedettine alle ore 20 e 30 giornalisti artisti pagliacci e poi la storia di Adriano Olivetti nell'ex chiesa di San Francesco alle 22 e 30 per la novità di passaggi a teatro ci sarà poi uno spettacolo interpretato dall'attore Francesco Pompiglio con la musica dell'artista argentina Melody Quinteros alle 18 e 30 questo è un'iniziativa un incontro che i fanesi dovrebbero segnalarsi nel loro agendina perché c'è Andrea Angelucci che è presidente del circolo culturale Bianchini che presenterà il suo libro Dante e la città della fortuna la giornata poi si chiude con tre appuntamenti di passaggi tra le nuvole per gli appassionati di graphic novel alla Memo l'ultimo alle 22 e 30 e con Maria Cerri e Nadia Terranova con il loro ultimo lavoro zianina quindi c'è veramente una giornata molto molto ricca di iniziative c'è solo l'imbarazzo della scelta ma poi queste giornate si ripeteranno anche domani dopo domani per tutto il fine settimana Invalido dopo lo schianto contro un tir a giudizio chi dirigeva il trasporto sono stati chiesti quattro mesi di carcere per lesioni colpose gravissime e la richiesta di pena che è stata avanzata ieri in tribunale dal PM nei confronti del caposcorta di un trasporto eccezionale era l'aprile del 2021 ci fu un incidente in cui rimase coinvolto un cinquantenne di Marotta rimasto tetrappegico tra il suo carro attrezzi e il mezzo che trasportava uno yacht il fatto era venuto alle 22.30 i conducenti e la guida dell'auto articolato con a bordo il maxi scafo avevano preso contro mano la rotatoria sulla statale 4242 non lontano dal casello di Marotta per riuscire a passare con un ingombro veramente eccezionale della caraggiata in quel momento però era arrivato un cinquantenne al volante di un carro attrezzi l'impatto quindi è stato inevitabile e quindi è successo l'incidente passiamo ad Urbino e vediamo il volto del nuovo sindaco che in realtà è quello vecchio Gambini il Maurizio Gambini sorridente perché per la terza volta dirigerà governerà il comune di Urbino Gambini il mio tris è un momento storico come capoluogo diamo forza all'entroterra la proclamazione del sindaco al terzo mandato è venuta ieri alle 15.47 e poi il giornale pubblica l'elenco dei nuovi consiglieri comunali sono veramente tanti quindi non sto qui a leggerveli tutti comunque sono pubblicati sul giornale e abbiamo anche una dichiarazione di Maria Francesca Crespini che è stata sconfitta dalle elezioni la sconfitta non è di pesa dai nostri 400 voti dice riferendosi al balottaggio sembra come Francesca Crespini si era unita a a Scaramucci che è stato il avversario di Gambini perdente nell'ambito del balottaggio alla convenzione di Arus ammettono il ricorso anti-guinza ebbene nei giorni scorsi parliamo di questa arteria di questa struttura che dovrebbe così collegare l'Umbria con le Marche e poi anche con la Toscana per dare uno sfogo alla superstrada Fano-Grosseto però ci sono sempre degli intoppi ebbene ieri si è riunita alla commissione considerata la voce della valle nei giorni scorsi durante la sessione del comitato di conformità di questa convenzione la Arus che si è svolta poi a GINERA è stato esaminato anche il ricorso portato da voci della valle che è il collattivo dei cittadini dell'Alta Valle del Metauro che si sono opposti al tracciato della Fano-Grosseto nel loro territorio il punto della discussione era quello di stabilire se lo Stato italiano avrebbe violato la convenzione di Arus nella pianificazione del progetto relativo all'apertura della Galleria della Guinza una pianificazione che dà delle difese dei cittadini per quanto riguarda la realizzazione di strutture nel loro territorio perché queste non devono confliggere appunto con la vivibilità tranquilla di una certa zona ebbene è possibile fare questo ricorso anti-guinza vediamo un po' i diritti dei cittadini sono sacrosanti però insomma quest'opera prima o poi dovrà pure essere realizzata perché altrimenti tutta la provincia non dico solo la Valle del Metauro potrebbe risentirne negativamente a questo punto abbiamo terminato la nostra conferenza la nostra rassegna stampa che dico ci manca un quotidiano e vabbè insomma comunque le notizie che abbiamo detto sono quelle che abbiamo appunto recensito questa mattina speriamo che domani abbiamo la nostra rassegna stampa completa come tutti gli altri giorni intanto vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata grazie a tutti